Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Star Wars The Deck Building Game, gioco della Fantasy Flight in questa edizione che vedete qui davanti a cura di Asmode Italia, che io come sempre ringrazio di cuore per la copia fornita e per aver portato in Italia un prodotto così discusso e di cui c'era secondo me anche abbastanza bisogno perché ci riporta nel bel mezzo della guerra fra ribelli e impero, quindi nella vecchia trilogia in episodi 4, 5, 6, ed è un velocissimo deck building con poche regole, veramente assimilabili nel giro di ma nemmeno una partita, un round di una partita e soprattutto non è un gioco di carte collezionabili, badate bene, è un deck building, voi tutto quello di cui avete bisogno lo trovate dentro questa confezione più le espansioni che usciranno sicuramente da qui a breve tempo, quindi in futuro. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Star Wars The Deck Building Game della Fantasy Flight in questa edizione italiana a cura di Asmode Italia è un gioco, come detto poc'anzi, di deck building, quindi un gioco dove voi dovrete andare a comporre il vostro mazzo acquistando carte mano a mano che i turni si susseguono uno dopo l'altro e poi per riuscire a sconfiggere l'avversario. È un gioco da due giocatori, quindi non si può giocare in 3 o 4, almeno con la scatola base, poi in futuro, ma non penso, anche perché le fazioni in campo sono ribelli e impero. Ci sono nel mezzo anche delle forze neutrali, bounty hunter, piloti e cose del genere, che potete andare a comprare, ad assumere per rinfoltire il vostro mazzo, comunque sempre, per ora, almeno nella scatola base, pezzo praticamente per sempre, è un gioco uno contro uno, testa a testa, diretto. Il regolamento del gioco è semplicissimo, si ha un mazzo di partenza dei ribelli, un mazzo di partenza dell'impero e quelle sono le vostre carte, le carte che potrete avere in mano e giocare. Poi, nel mezzo, al centro del tavolo, c'è la sezione della galassia, dove ci sono delle carte che sono sia dell'impero che dei ribelli, ovviamente, e neutrali. Il giocatore imperiale può prendere quelle dell'impero e quelle neutrali, il giocatore ribelle, quelle dei ribelli e quelle neutrali, ovviamente un giocatore dell'impero non può prendere quelle dei ribelli e viceversa. Ciascuna carta ha un costo, quindi un costo per essere acquistata, magari, non lo so, potrebbe essere i 5 punti, e danno vari valori, tra cui punti ferita, abilità speciali e forza. Ciascuna fazione ha un pianeta di partenza, più diversi pianeti da proteggere, e la partita finisce, non ha un numero di round, finisce quando il primo, la prima fazione, perde 3 pianeti, quindi quando 3 pianeti vengono distrutti, l'altro giocatore ha vinto la partita. Ed è un regolamento particolare e carino, perché quando si vuole fare l'attacco a un pianeta, ovviamente si deve attaccare sia con forze di terra che con una flotta, però non potete andare a distruggere un pianeta se c'è una flotta nemica in difesa. Quindi se il giocatore ribelle attacca il pianeta imperiale, deve prima fare fuori tutta la flotta imperiale, e poi tutti i punti ferita che avanzano li fa direttamente al pianeta. Quando si va a fare invece l'attacco a delle forze di terra, è strano, perché di solito in un gioco di carte, tu hai in campo la tua mano di soldati, eroi, tipo gli ucche, soldati ribelli, magari dall'altra parte c'è il direttore ai lavori, Krennic, ad esempio, e degli stormtrooper imperiali. Te con i tuoi attacchi suoi. No, quello che viene attaccato nei blitz di terra, nei pianeti ve l'ho detto poc'anzi, flotte che attaccano flotte che distruggono i pianeti, nelle forze di terra, non andate ad attaccare le carte che lui ha di là, ma andate ad attaccare le carte al centro. Quindi viene fatto l'attacco direttamente alle carte che sono nello, 20 virgolette, shop della galassia, e andandogliela a distruggere, le levate da lì, le mettete nella pila degli scarti della galassia, quindi il giocatore, vostro rivale, non le può comprare. Quindi magari in quel momento, laggiù nel mezzo c'è la carta di Darth Vader, voi glielo fate fuori con Luke più abbastanza forza da fare fuori i punti ferita di Darth Vader, sarà difficile ma può capitare, e il giocatore a quel punto, che voleva nel suo turno, con i punti che c'è a disposizione, andare a reclutare Darth Vader per mettercelo nel mazzo e ovviamente riutilizzarlo, non lo può fare perché voi glielo avete buttato fuori. Quindi voi non andate ad attaccare i guerrieri o le forze dell'avversario, ma andate a togliere carte al centro. Mentre invece quando le acquistate, come detto poc'anzi, pagate il costo, ve la mettete nella pila degli scarti, quando andrete a rimischiare la pila degli scarti con le carte che avete in mano, avrete anche la nuova carta che avete acquistato e la potrete utilizzare da subito. Non c'è un limite alle mosse, avete cinque carte in mano che potete utilizzare, le potete usare tutte e cinque. Le abilità sulle carte possono essere usate una volta soltanto, ciascuna carta può attaccare una volta sola. Se Luke ha attaccato Darth Vader, l'attacco è finito, la carta si gira, e sta a identificare che è attaccato. Per distruggere un pianeta si possono mettere i segnalini punti ferita sulle flotte ferite e sul pianeta, quando fate attacchi di... che rimangono ovviamente, quando fate attacchi di terra no. Quindi la vostra forza deve bastare a sconfiggere quello che volete sconfiggere. Dico una cosa, un esempio. Darth Vader magari ha otto punti ferita, dieci punti ferita, voi gli fate otto danni e non muore. E quindi tutto il vostro attacco va perso. Quindi non si possono mettere segnalini sui nemici di terra che andate a combattere, ma li dovete distruggere con lo stesso attacco. Quindi come vedete è un gioco semplicissimo. In conclusione, questo Star Wars The Deck Building Game, in edizione italiana a cura di Asmon Italia, è un gioco di carte per tutti. Ovvio, devi essere, magari, si cerca sempre di consigliarlo, se fosse stato Harry Potter, ai fan di Harry Potter. Star Wars è fan di Star Wars, Star Trek è fan di Star Trek. Però, comunque, è un gioco talmente veloce e bellino ed immediato che, secondo me, una partita ce la potete far fare a tutti. Poi, vabbè, chi è che non conosco, ma nemmeno un ragazzino di oggi con tutte le serie di Disney, di Mandalorian, The Book of Boba Fett, Bad Batch, quindi chiunque ormai conosce Star Wars. Quindi, secondo me, è una partita per vecchi fan, ma anche per nuovi possibili fan, ed è un gioco di carte che, al tavolo, secondo me, potete far divertire chiunque, ed è, ragazzi, veramente semplicissimo. Io non impazzisco, chi mi conosce lo sa, per i giochi di carte, però questo è fatto bene e suo punto a favore che è veramente immediato. Ed è una cosa, secondo me, veramente, veramente carina e molto interessante. In più, ha la meccanica, che mi sono dimenticato di dir prima, della forza, il lato oscuro della forza e il lato chiaro, che, mano a mano che guadagnate punti, va da una parte e dall'altra, ovviamente, dà dei bonus risorse nel corso della partita. Quindi è veramente interessante. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sua impressione, dalla Gioco Libre di Asimola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito, lo trovate in lista Star Wars e Deck Building Game. C'è mappallino rosso, quindi non è disponibile, oppure proprio andate a scrivere nel motore di ricerca interno del sito e il prodotto non c'è in lista, mandate una mail a Corrado, al supporto, al proprietario dello gioco di Libre di Asimola, scrivete al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui non soltanto farà il possibile per trovarvelo, se è fuori catalogo, ma anche nel caso nel sito fosse finito, ne ordinerà nuove copie per farvela avere. Quindi comunque è un servizio impeccabile che non trovate in altre parti, perché permettetemelo dove trovate un servizio che questo gioco non ce l'ha in lista, quindi vuol dire che magari non gli interessa nel catalogo, ve lo cerca, se ovviamente è reperibile, ve lo cerca e ve lo manda anche di roba fuori dal catalogo. Ed usate sempre il codice discount mio personale Coridan7, tutto scritto maiuscolo al momento dell'acquisto, cliccate sul discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%, e per spese superiore ai 79€, corriere gratuito in tutta Europa, 48 ore e vi arrivo a casa. Quindi anche se state in Francia, 48 ore ce l'avete. Quindi è un servizio, come vedete, perfetto. Io ringrazio ancora una volta Asmoditalia per avermi offerto questa copia per la recensione, il gioco Fantasy Flight, che ovviamente mai si smentisce, ed è un titolo veramente interessante, alla portata di tutti, e che sono convinto riuscirà a farvi divertire e immaginare quelle belle battaglie di Star Wars. Non vedo l'ora di vedere le espansioni magari ambientate nella Guerra dei Cloni o nel periodo di intermezzo. Sarebbe veramente una grandissima figata con personaggi provenienti non soltanto dalla vecchia trilogia, ma anche magari dei videogiochi. Magari potete usare un Grogu o un Calcestis, ad esempio, sarebbe veramente una soca. Molto interessante. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!